Salve a tutti ragazzi ed eccoci noi qui sul mio canale Siamo qui oggi con un nuovo video di Black Desert Online Vorrei iniziare Con questo video Una serie di Non voglio chiamarle guide Voglio chiamarle semplicemente Scroll boss Perché vorrei portarvi Con appunto una serie di video concatenati l'uno all'altro Tutti gli scroll boss del gioco Da fare come daily O comunque come attività end game Raggiunto il livello 50 Il video che vi propongo oggi Allora questo è un video vecchio Diciamolo subito Questo è un video vecchio come potrete vedere anche dal livello Sono ancora a livello 50 E oltretutto sono ancora abbastanza inesperto in questo video Però siccome era uscito un video abbastanza decente L'avevo registrato e l'avevo messo lì da parte Perché avevo intenzione Di fare una serie di video su Eh gli scroll boss Allora l'avevo lasciato lì E direi che è il momento di sfruttarlo Tanto diciamo che il livello è irrilevante Per quello che voglio raccontarvi Diciamo Per quello che voglio dirvi su Questo particolare scroll boss E comunque su gli scroll boss in generale A cosa servono Come si ottengono Eccetera eccetera Allora innanzitutto Partirei subito da questa cosa Eh gli scroll boss Come saprete Come avrete visto Ma chi non lo sa Cerco di dirvelo in parole povere Sono delle Sono una delle tante attività Endgame Eh di Black Desert Online A differenza di altri giochi Dove Eh di solito quando si pensa all'endgame Si pensa ai dungeon In Black Desert Online Al posto dei dungeon Che non si sa se verranno introdotti Anche se si pensa di sì Ma in un futuro prossimo Speriamo Eh ci sono questi scroll boss Eh sono ovviamente delle pergamene Delle pergamene Che voi in un determinato punto Della mappa Andate con un vostro team Con i vostri amici In parti da 5 E evocate questa scroll Potete evocarne quante volete Quante ne avete Eh E spona Come vedete laggiù Vedete là davanti a noi In questo caso particolare Quello là Non è una scroll boss Ma è il world boss Se non ricordo male Perché mi ricordo Che era una serie Che noi siamo andati A fare questa scroll boss E non riuscivamo A attivarla Perché c'era quel World boss Lì nel mezzo E ci colpiva E ci sciottava Praticamente Quindi quando qualcuno Riusciva ad allontanarlo Per distrarlo Ma possibilmente Un ranger Che lo distraeva Se lo portava dietro Vedete che io E l'altro tipo Siamo andati ad evocare Vedete La pergamena Ce la vuole l'inventario Tasto destro Vi chiede di evocarla Fate ok Quindi yes Enter E vi evoca Questo scroll boss Vedete Ora praticamente lui Cioè io mi allontano Perché sta arrivando Come avete visto Il world boss Che praticamente Se mi avesse preso Mi avrebbe shottato E siamo venuti indietro Vedete sono con altri Tre amici Siamo venuti indietro E ora cerchiamo Di aggrarlo E portarlo verso noi Comunque come vi stavo dicendo Le scroll boss Appunto sono questi Contenuti Endgame Che vi permettono Di Droppare Di droppare Blackstone Quindi Diciamo sono importanti Dal punto di vista Delle blackstone Perché Oltre a Dropparvi Una sacchetta In questo caso Nel red nose Questo è Limp captain Questo si chiama Imp captain summon scroll E limp captain Che sarebbe il red nose Praticamente In poche parole Come vedete C'ha questo nasone rosso È una sorta di Sembra di faccia Sembra un cinghiale Però con il naso Tipo mini proboscide rossa Sembra che abbia bevuto Come un tacchino E Vedete quanto danno Mi ha fatto E mi ha anche tirato di sotto Fra parentesi Comunque In questo caso Vi dropperà Delle sacchette Che voi Se le aprirete Potrete droppare Innanzitutto Dei token Da scambiare In questo caso qua Allo western guard camp Che è sotto Perché questo boss Qua si trova Esattamente Se guardate la minimappa Vedete in alto La minimappa È praticamente A sinistra di veglia Dove ci sono Quei due cerchi Che sembrano degli altari Sembrano due altari Se voi aprite la mappa A veglia La vedete benissimo Perché andate a sinistra Dopo la prima farm Sulla sinistra di veglia Ci sono questi due altari Il secondo altare Verso Cioè il primo altare Verso olvia E lì Dovete summonare Il red nose Quindi Limp captain Come vedete appunto Dalle sacchette Vi può Droppare dei token Che sotto Nel western grand cap Potete scambiare Per denaro E quindi Riuscirete Avendo tanti token A ottenere parecchi soldi Fate conto Che con un giro Di Cinque Persone Fate conto Quattro Cinque scroll A testa Di red nose Riuscite a fare Settecento Ottocento K O quasi un milione Volendo A seconda di A seconda se avete fortuna O meno Comunque Oltre alle sacchette Ah ovviamente Una cosa importante Quando voi avete summonato Il boss Se l'avete summonato voi E Non riuscite a summonarlo Un altro Perché dite Cazzo Come faccio Io c'erano Altre due Vado a summonare di nuovo Però non me lo Non me lo fa evocare Perché Perché Quando voi Finite di evocare Il boss Diciamo Lo scroll boss Dovete per forza Evocare il fantasy Vedete in basso a destra Siccome ero ancora rincoglionito Non lo sapevo Vedete in basso a destra Che c'è L'icona del fantasmino Del black spirit Che mi dice Che io devo aprire Completare la quest Di questo scroll boss E a quel punto Posso evocarne uno nuovo Quindi non dimenticate Se avete qualche dubbio Di evocare il fantasmino Ottenere la vostra ricompensa Le sacchette Di cui vi dicevo prima Che sono delle sacchette rosse Le vedete benissimo E Appunto Rievocarne un altro In questo caso Come vedete ancora Siamo lontani C'è il mio amico lì Che vedete Sta andando a destra Per aggrare il world boss E portarlo via Così che io possa andare in mezzo E Aggrare il boss E scusate Evocare il boss Ovviamente Sarò rincoglionito Ora lo vedrete Non riuscirò ad evocarlo Perché? Perché non ho evocato il fantasmino E gli dirò Cazzo ora ti passo la leader a te E poi te me la ripassi a me Ma era un bug Invece no Ero io rincoglionito Che non sapevo Che il black spirit Andava evocato Per completare la quest Ma questo è un altro discorso Comunque come vi stavo dicendo Il Insomma Gli scroll boss In questo caso Limp captain Vi può droppare anche Blackstone weapon E blackstone armor Oltre ad ottenerle Aprendo le sacchette Di cui vi dicevo prima E che anche lì dentro Potete trovare blackstone armor E blackstone weapon Ve le droppa anche il boss stesso Mentre muore Lascia dei droppa Lì si divide il drop Tra quelli che ci sono nel team Chi ha culo droppa le weapon Chi ha culo le armor Chi ha culo tutte e due Cioè è un po' così Però diciamo che Fare gli scroll boss Poi vi farò vedere Il giro completo In questo caso Questo diciamo È il primo scroll boss Che si fa di solito All'inizio del gioco Ehm La Ah Quando è arrivato al 50 Il fantasmino Vi inizierà a dare queste daily Ehm Praticamente vi darà Delle quest Giornaliere Di diverso tipo A seconda di quella che scegliete Avrete una scroll diversa In questo caso Se sceglierete di Uccidere 40 Se non ricordo male 40 soldati 40 soldati A destra di Vela Nel castello Se avete presente Vela Aprite la mappa A destra In alto Ehm A nord est Praticamente C'è un castello Vi fa uccidere 40 di quei soldati Uccisi 40 di quei soldati Vi dà la scroll Del limp captain Per esempio Se dovete farne un alto Che poi ve lo dirò Dovete uccidere Altri nemici Per ottenere Quella scroll Una cosa importante Come saprete In questo gioco C'è il discorso Nelle knowledge Quindi voi dovete Potete conoscere Il vostro nemico Quando voi l'avete conosciuto In questo caso Limp captain Se avete ottenuto Se non sbaglio Una conoscenza Da B a superiore Quindi B A O S Però non voglio dire Una cagata ragazzi Quindi se è il caso Correggetemi nei commenti Come sempre Devo voler controllare Ma ora non ho tempo Quindi Però mi sembra Da B a S Quindi B a S Vi dà la possibilità Di non dover fare Più la quest Cioè tutto sta Che voi avrete Ottenuto la conoscenza B A o S Il gioco Vi darà la possibilità Di non dover fare La quest Cioè Il fantasmino Vi darà La quest giornaliera Comunque Ma voi ve la Completerete Direttamente Nel senso L'attivate Quando chiudete Il fantasmino Lo riaprite Avreteci alla scroll Senza bisogno di fare I 40 soldati In questo caso particolare Quindi molto utile Per affrettare i tempi Quindi è necessario Sempre qui Minor tempo possibile Riuscire a Ottenere la knowledge Di tutti Gli scroll boss Così almeno Vi facilitate le cose E non dovete perdere tempo Andare in giro Per la mappa A fare le quest Per ottenere la scroll Altra cosa importante Ah qui avete visto È sparito Il world boss E ora possiamo Tranquillamente Sull'altare Combattere contro L'imp captain Ovviamente Il world boss Che avete visto Quel world boss Come tanti altri World boss Di cui parleremo Poi anche di questo Vi daranno la possibilità Di droppare La liberto Quindi le armi Liberto E poi Da Da un Due settimane Se non sbaglio Tre settimane Quanto è già passato Non mi ricordo Anche le armature Dei boss Quindi Non dimenticatevi Di andare a fare i boss Per armi e armature Che fanno sempre comodo Anche questo Scroll boss In particolare Dalle sacchette Può droppare Un pezzo di armatura Quindi Le sacchette Conservatele Apritele tutte insieme O apritele una alla volta Come volete Però Ricordatevi Che c'è la possibilità Che vi droppi Un pezzo di armatura Dei boss Che sono molto costose E comunque Possono servire Per l'end game Quindi per il vostro personaggio Come Armatura End game Quindi anche questo Ragazzi Non dimenticatevelo Ora questo È un video Diciamo Introduttivo Sto avvolgendo Al termine Quindi sto Direi Che se possiamo Chiudere qua Su appunto Questi scroll boss Spero vi sia stato utile Più chiarimento Sui scroll boss Sul loro funzionamento E poi Pena a mano Che andremo avanti Ne spiegheremo altri Vi dirò Altri dettagli Importanti E magari Che vi possono interessare Ho anche altri video In programma Un po' di video Forse troppi Per la mia connessione Ma cercherò di fare Il possibile E ragazzi Come sempre Vi ringrazio per la visione Vi lascio un mi piace Commentare Iscrivervi al canale Come sempre Le solite cose E ovviamente A condividere il video Se con i vostri amici Se ne hanno bisogno Eccetera eccetera Io ragazzi Che dire Come sempre Vi ringrazio per il supporto Vi ringrazio per la visione Ci vediamo con il prossimo video Ragazzi Ciao a tutti